TURISMO SOSTENIBILI perché il turismo o è sostenibile o rischia di fallire e di distruggere quella che è la nostra identità culturale, quella che è la nostra ricchezza naturale, eccetera. Tutti vogliono lavorare, e questo grande supporto non ho aspettato, e con questo supporto possiamo realizzare i nostri sogni che abbiamo l'Iron Curtain per l'Europa. Inoltre, 20 Paesi e 14 di loro sono membri della Unione europea. E quindi è una ricchezza in la storia, la cultura e la politica. Inoltre, noi stiamo pensando sulla divisione dell'Europa, della buona periodo dell'Europa, ma anche sulla riuscita di questa divisione della rivoluzione dell'Europa rivoluzione dell'Europa. Inoltre, mi ringrazio, qui in Warschau, il Movimento Solidarno di Soledano, perché sono convincente, che senza i nostri ragazzi di Polo di Soledano, senza i nostri ragazzi di Soledano, la strada di Berlino non si stavano. Inoltre, noi stiamo cercando al futuro, vogliamo rivoluzione dell'Europa, ma solo ci stanno rivoluzione dell'Europa, che sappiano del passato. Inoltre, abbiamo bisogno di questo progetto, l'Iron Curtain Trail in Europa. Grazie a tutti!